Nuova edizione del premio Crotone OK, Antonio. Eccoci arrivati a un altro anno, a un altro appuntamento. Il premio OK nasce nel 2011 da un progetto editoriale mio e dalla mia redazione volto a evidenziare gli aspetti positivi del nostro territorio ma soprattutto volto a raccontare ciò che si è parlato a livello nazionale di Crotone e provincia. Naturalmente quotidianamente sentiamo di aspetti negativi del nostro territorio e spinti da questo io e la mia redazione abbiamo deciso spinti anche dal fatto che vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno abbiamo deciso di raccontare e soprattutto premiare le positività che ci sono e sono tante. Sì, è vero. Oggi è una scelta molto particolare perché ad esempio parliamo di Giovanni Pugliese dell'Istituto Sant'Anna ma parliamo anche della sorgente delle arti per quanto riguarda il mondo della cultura e dell'arte. Parliamo dell'atleta crotonese e insomma parliamo di gente che dà un'immagine bella della nostra terra. Certo, quest'anno come sempre i premi sono tre, hai nominato la sorgente delle arti quest'anno è stato dato il premio messaggio che questi ragazzi per lanciare questo messaggio, un messaggio a tutti i giovani grazie a loro che hanno coltivato i loro sogni nel nostro territorio il messaggio è quello verso tutti gli altri giovani che partono ogni giorno, ogni anno per dire che nel nostro territorio si può fare, si può fare impresa si possono realizzare i propri sogni e le proprie professionalità. Poi abbiamo Ayub, Ayub è stato dato il premio sportivo che è legato alla nostra testata il rosso-blu, oltretutto un premio per ricordare Peppino Messinetti il nostro grande giornalista crotonese. Ayub quest'anno ha avuto un grandissimo riconoscimento vincendo i campionati nazionali Juniores e per la nostra città credo che sia un grandissimo traguardo. Anche per mettere in evidenza che siamo una città accogliente? Principalmente, brava, sì principalmente. E poi il personaggio ok 2019 è stato dato al dottor Giovanni Pugliese dell'istituto amministratore delegato dell'istituto Sant'Anna oltre ai loro successi che di anno in anno portano avanti quest'anno hanno organizzato un evento internazionale portando a Crotone illustrimenti da tutto il mondo facendo parlare su delle più grandi riviste medico-scientifico della nostra città.